La notte è giovane, Gianfranco Apicerni con Lucrezia Gizzi, la studentessa che ormai frequenta da un po' è al settimo cielo, anche in mondanità. In lei ho trovato tutto quello che cercavo, è una ragazza intelligente e bella e non è interessata al mondo dello spettacolo. Lucrezia è tutto quello che volevo, sono felice, ha detto. L'ex tronista, ora tornato in tv di nuovo come postino a C'è posta per te, a passeggio per le vie del centro di Roma con la donna del suo cuore sorride e davanti a flash e telecamere non ha paura di bocca a bocca passare.